come sapete leggiamo oggi il canto 25 del paradiso come il nostro solito tutto di seguito poi ricominciamo da capo per spiegare facciamo una pausa mi chiedo di inviarmi se ne avete i dubbi alla chat durante quella poi riprendiamo la spiegazione rileggiamo il tutto alla fine scusate metto il silenzio vedo che qualcuno ha il microfono aperto ecco allora cominciamo semmai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra si che ma fatto per molti anni macro vinca la crudeltà che formi serra del bello vile ovvio dormì agnello mimico ai lupi che gli danno guerra con altra vocio mai con altro bello ritornerò poeta e in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello farò che nella fede che fa conte l'anime a dio qui vintra io e poi pietro per lei si immigirò alla fronte indi si mosse un lume verso noi di quella spera onde uscì la primizia che lasciò cristo di vicari suoi e la mia donna piena di letizia mi disse mira mira ecco il barone per cui laggiù si visita galizia siccome quando il colombo si pone presso al compagno l'uno all'altro pande girando e mormorando l'affezione così vidio l'un dall'altro grande principe glorioso essere acculto laudando il cibo che lassù li prende ma poi che il gratularsi fu assolto tacito coramme ciascun sa fisse ignito sì che vince il mio volto ridendo allora beatrice disse inclita vita per cui la larghezza della nostra basilica si scrisse fa risonarla spene in quest'altezza tu sai che tante fiate la figuri quando Gesù ai tre fe più carezza leva la testa e fa che t'assicuri che ciò che vien qua su del mortal mondo convienca i nostri raggi si maturi questo conforto del foco secondo mi venne ond'io levai gli occhi ai monti che l'incurvaron pria col troppo pondo poiché per grazia vuol che tutta affronti lo nostro imperatore anzi la morte nell'aula più secreta con i suoi conti sicché veduto il verde questa corte la spene che laggiù ben innamora in te in altrui di ciò conforte di quel che l'è di come se ne infiora la mente tua e di onde a te venne così seguì il secondo lume ancora e quella pia che guidò le penne delle mie ali a così alto volo a di risposta così mi prevenne la chiesa militante alcun figliolo non ha con più speranza come scritto nel sol che raggia tutto nostro stuolo però gli è conceduto che d'egitto venne in jerusalemme per vedere anziché il militarli sia prescritto gli altri due punti che non per sapere sono dimandati ma perché i rapporti quanto questa virtù te è in piacere a lui lasciò che non gli saranno forti né di attanza ed egli a ciò risponda e la grazia di dio ciò li comporti come discente che ha dottor seconda pronto e libente in quel che li è esperto perché la sua bontà si disasconda spene di sio è un attender certo della gloria futura il qual produce grazia divina e precedente merto da molte stelle mi viene questa luce ma quella di stillò nel mio corpria che fu sommo cantor del sommo duce sperino in te nella sua teodia dice color che sanno il nome tuo e chi non sa se li ha la fede mia tu mi stillasti con lo stillar suo nella pistola poi sicch'io son pieno e in altrui vostra pioggia repluo mentre io diceva dentro al vivo seno di quello incendio tremolava un lampo subito e spesso a guisa di val di baleno indispirò l'amore on dio a vampon curvar la virtù che mi seguette in fin la palma e all'uscire di campo volchio rispire a te che ti dilette di lei ed è mia grato che tu diche quello che la speranza ti impromette e io le nove e le scritture antiche pongon lo segno ed esso lo mia dita dell'anime che dio sa fatte amiche dice isaia che ciascuna vestita nella sua terrafia di doppia vesta e la sua terra e questa dolce vita e il tuo fratello assai vi è più digesta laddove tratta delle bianche stole questa rivelazione ci manifesta e prima presso al fin deste parole speren in te di sopra noi sudi a che rispose a tutte le carole poscia tra esse un lume si schiarì sicché se il cancro avesse un tal cristallo l'inverno avrebbe un mese d'un sol dì e come sorge va ed entra in ballo vergine lieta sol per fare onore alla novizia non per alcun fallo così vidio lo schiarato splendore venire a due che si volgieno a nota qual conveni esse al loro ardente amore misesi lì nel canto e nella rota e la mia donna in l'ortene all'aspetto pur come sposa tacita e in nota questi è colui che giacque sopra il petto del nostro pellicano e questi fue di sulla croce al grande ufficio e letto la donna mia così ne però più e mossa la vista sua di stare attenta poscia che prima le parole sue qual è colui che ad occhia s'argomenta di vedere clissarlo sole un poco che per veder non vedente diventa tal mi feciva quell'ultimo foco mentre che detto fu perché tabbagli per veder cose che qui non alloco in terra è terra il mio corpo e saragli tanto con gli altri che il numero nostro con l'eterno proposito s'aguagli con le due stole nel beato chiostro sono le due luci sole che saliro e questo apporterai nel mondo vostro a questa voce l'infiammato giro si quietò con esso il dolce mischio che si facea nel suon del trino spiro siccome per cessar fatico rischio li remi pria nell'acqua ripercossi tutti si posano al sonar dun fischio ai quanto nella mente mi commossi quando mi volsi per vedere beatrice per non poter vedere bench'io fossi presso di lei e nel mondo felice allora ricordate che il canto 24 quello che abbiamo letto la settimana scorsa narrava come san pietro sempre nell'ottavo cielo in quello delle stelle fisse dove dante è congiunto al suo segno zodiacale dei gemelli ha interrogato dante sulla prima delle tre virtù teologali la fede gli ha chiesto non solo la sua definizione ma anche se lui ce l'ha come virtù e da dove gli è venuta dopodiché aveva chiesto sull'oggetto della fede dante aveva recitato quindi il credo prima diciamo giudeo cristiano in armoniosa congiunzione con la fisica aristotelica poi cristianissimo della trinità dopodiché pietro aveva girato tre volte attorno a dante celebrando la sua bravura nell'esame ora diciamo questo canto 25 si apre con un'insolita pausa narrativa che è occupata da un intervento del dante scrittore davvero straordinario leggiamo quindi di nuovo questi stupendi dodici versi e poi li commentiamo con la calma che meritano semmai continga che il poema sacro al quale apposto mano è cielo e terra si chiama fatto per molti anni macro vinca la crudeltà che formi serra del bello ovvio vi odormì agnello mimico ai lupi che gli danno guerra con altra voce o mai con altro bello ritornerò poeta e sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello parò che nella fede che fa allora qui il personaggio dante scrittore quello che è tornato dal viaggio assume veramente diciamo una connotazione nuova collegato ovviamente a quei momenti civici nei quali aveva lanciato delle invettive o dei desideri dal dal suo mondo ormai tornato dal viaggio come per esempio la lunga digressione vi ricordate del sesto di purgatorio ai serva italia di dolore ostello no tutta quella tirata diversi in cui interrompe la narrazione ma qui è davvero straordinario quello che si dice intanto scusate c'è gente che sta alzando la mano o è un caso dice zavalia zavalia boube in alberio ha alzato la mano no è stato casuale va bene allora intanto dante qua nel primo verso rinomina il suo poema che aveva detto nell'inferno due volte commedia e sacrato poema qualche canto fa ora lo chiama poema sacro con una definizione che verrà ripresa a lungo dalla tradizione critica infatti quando parliamo della commedia spesso lo chiamiamo il poema sacro dove sacro come ora vediamo non comporta soltanto diciamo la materia chiaramente sacra almeno in parte del testo ma come dice subito nel secondo verso è sacro perché è stato scritto a più umani cioè al quale apposto mano e cielo e terra cioè alla cui redazione hanno partecipato l'ispirazione divina cioè il cielo e la terra cioè il dante scrittore che nel mondo come scriva dei mettendo a disposizione le sue forze mortali per farci arrivare il messaggio divino allora dante si augura dice se mai dovesse accadere con tinga che questo libro che sto portando a termine cioè il poema sacro al quale han posto mano il cielo e la terra in che modo si che ma fatto per molti anni macro e cioè questo poema che sto portando alla fine nel quale ho lasciato anche il mio corpo mi ha reso magro nello sforzo questa partecipazione nuova in qualche modo del corpo del poeta è probabilmente legata come vedremo nella seconda parte del canto al tema della resurrezione dei corpi che appunto verrà all'usa in rapporto con la speranza la seconda delle virtù su cui dante verrà interrogato appunto in questo episodio perché dante più volte ci ha detto che si sta servendo del suo ingegno della sua mente della sua memoria del libro insomma della sua memoria nel quale ha scritto il vissuto durante il viaggio ma questa è la prima sola volta in cui dice che è il suo corpo ad essersi logorato durante tutti questi anni di scrittura allora se potesse mai contingere ci accadere che il poema sacro al quale ha lavorato sia dio che io in modo che mi ha fatto per molti anni macro vinca la crudeltà dei fiorentini che mi serrano fuori cioè mi impidono di entrare a Firenze cioè del bello vile ovvio dormì agnello cioè innocente nemico dei lupi che la danneggiano cioè se potesse accadere che grazie a questo poema al quale ho lavorato per tanti anni e che sto terminando possa vincere la crudeltà dei fiorentini sicché io possa entrare a Firenze di nuovo se potesse succedere questo ormai con un'altra voce con la voce rauca ma anche più autorevole della vecchiaia e dell'esperienza vissuta con altro vello con i capelli ormai bianchi e diradati ritornerò poeta e sul fonte del mio battesimo nel bel San Giovanni come Dante ricorda metonimicamente ma anche letteralmente come in questo caso nel 19 dell'inferno fonte del proprio battesimo prenderò il cappello cioè prenderò secondo alcuni gli allori detto con un francesismo arcaico secondo altri proprio il cappello allude al cappello cardinalizio che è legato non a caso alla Fide perché non a caso perché la narrazione che Dante ha interrotto riguardava appunto la celebrazione che San Pietro aveva fatto della sua fede e proprio per questo perché lo scrittore ha appena detto della sua fede fa questa digressione sul proprio anelito di finire i suoi anni a Firenze e infatti al verso decimo aggiunge però che perciò che nella fede che rende amiche perché le anime a Dio lì cioè nel fonte del mio battesimo entrai io e poi è sottointeso nel viaggio che sto narrando Pietro per la stessa fede così mi girò la fronte mi celebrò dunque perché dicevo che è eccezionale questo passaggio intanto perché il tema dell'esilio che noi ormai eravamo abituati a conoscere attraverso le profezie dei morti e dei penitenti e addirittura da questa importante profezia di cacciaguida nel canto 17 era un evento futuro rispetto del personaggio viato del viaggiatore solo attraverso questo passaggio noi veniamo a sapere che il personaggio che è tornato dal viaggio effettivamente è in esilio e sta scrivendo da fuori Firenze e che tutto ciò tutti i dolori che gli furono profetizzati sull'esilio si sono avverati ma è anche significativo che qui Dante si ponga come personaggio situato non solo nell'esilio ma quindi spazialmente ma anche nel tempo come ormai invecchiato durante la scrittura vicino alla fine del suo libro e riponga appunto in questo libro la speranza di finire l'esilio e tornare alla patria ed è significativo che lo faccia appunto con la fede perché qui Dante dice di se stesso che si augura di essere di tornare in patria poeta e questo termine è molto significativo perché come abbiamo detto non so se vi ricordate quando abbiamo letto il quarto canto dell'inferno dove Dante appunto incontra i grandi poeti antichi Omero, Ovidio, vabbè lo stesso Virgilio sappiamo appartiene a quel nobile castello Lucano, Orazio, solo a proposito di quei personaggi Dante aveva usato la parola poeta e ora la usa per sé tutti gli altri che noi magari nella parafrasi abbiamo detto poeti quelli che Dante incontra negli ultimi episodi del purgatorio Buonaggiunto Orviciani da Lucca, Arnaud Daniel, Guido Guinizelli, Dante li chiama rimatori quindi è evidente da questa distribuzione diciamo molto accurata dei termini che Dante associa la parola poeta al valore profetico all'ispirazione divina e quindi nel suo caso che eccezionalmente ormai nell'era cristiana mentre gli altri poeti del libro chiaramente sono pagani è legato alla sua fede ed è appunto per quello che si augura di essere coronato non nel Campidoglio dove si coronava appunto la poesia dove anni dopo sarebbe stato incoronato poeta Petrarca per esempio bensì nella fonte del suo battesimo perché quello che lui diciamo desidererebbe è di essere riconosciuto a Firenze per la sua fede fede per la quale scrisse il libro però e allora noi ormai diciamo leggiamo il libro sapendo che questo anelito di tornare a Firenze non si avverò e indipendentemente da questa nostra conoscenza extratestuale che probabilmente anche il Dante biografico intuiva perché era stato più volte stromesso dall'elenco dei degli amnistiati che potevano tornare appunto in patria è interessante come questo frammento viene proprio ubicato dall'autore tra l'esame della fede e quello della speranza ed è interessante perché qui diciamo Dante non parla di speranza fa un periodo ipotetico se potesse succedere questo ritornerò poeta e lo dice non a caso con il verbo contingere no che riguarda io ho parafrasato se potesse accadere no però è un verbo che ricorda le cose contingenti come aveva detto Dante a Cacciaguida no voi che guardate in Dio vedete le cose contingenti prima che siano in sé quindi è interessante che qui il Dante scrittore ricordi che comunque questo suo anelito riguarda il suo aspetto contingente proprio prima di parlare della sua speranza che invece riguarda l'eternità come vedremo perché quella speranza della gloria della gloria della gloria della gloria della gloria intesa in senso cristiano cioè della vita eterna della resurrezione dei corpi quella sì almeno per quel che riguarda l'argomento del libro Dante è destinato ad ottenerla vero? allora finita questa introduzione insolita al verso 13 Dante riprende la narrazione indi si mosse un lume verso noi di quella spera onde uscì la primizia che lasciò Cristo di vicari suoi cioè quindi una luce si mosse verso di noi cioè verso Dante Beatrice e San Pietro un lume che uscì dalla stessa sfera vi ricordate che le anime stanno facendo dei girotondi la stessa sfera dalla quale era uscito Pietro cioè la primizia che lasciò Cristo dei suoi vicari il primo e la mia donna cioè Beatrice chiaramente piena di Letizia mi disse mira mira ecco il barone per cui laggiù si visita Galizia cioè chiaramente Beatrice sta indicando Jacopo Jacopo il maggiore quello per cui si fa il pellegrinaggio a Santiago de Compostela si visita la Galizia e quindi Jacopo ora si avvicina a questo piccolo gruppetto dove oltre a Dante Beatrice c'è anche San Pietro e Dante presenta questo loro incontro con questo bellissimo questa bellissima analogia al verso 19 siccome quando il colombo si pone presso al compagno l'uno all'altro pande girando e mormodando l'affezione cioè così come due colombi si avvicinano e si manifestano tra di loro attraverso dei giri e dei rumori della voce il grande affetto come due uccelli così vi dio l'un dall'altro grande principe glorioso essere accolto cioè così Dante vede che Pietro e Jacopo si salutano e si accolgono con allegria e affetto laudando il cibo che lassù li prende cioè laudando il pane degli angeli cioè il cibo che li alimenta lassù ma al verso 25 ma poiché il gratularsi fu assolto una volta che finirono di salutarsi e farsi feste tacito coramme ciascun sa fisse ignito sì che vince il mio volto cioè ognuno comincio a guardarmi tacito in silenzio coramme vuol dire di fronte a me così acceso ignito che vincea cioè superava la mia capacità visiva quindi Dante probabilmente abbassa gli occhi perché sono talmente lucidi Jacopo e Pietro che non può sostenerne lo sguardo e quindi Beatrice sorridente disse verso 29 Inclita vita per la cui larghezza della nostra basilica si scrisse fa risonare la spene in questa altezza tu sai che tante fiate la figuri quante Gesù ai tre feppiù carezza allora Beatrice dice a Jacopo nobile vita attraverso il quale la generosità della nostra basilica cioè del paradiso si scrisse e qui Beatrice sta facendo allusione a un epistola l'epistola di Jacopo che nel medioevo era attribuito appunto a lui mentre oggi l'attribuiamo invece al Jacopo minore ed è appunto un epistola nella quale si parla della grande ricchezza della grande generosità del paradiso quindi dopo il vocativo Beatrice dice fa risonare la spene in questa altezza cioè fa suonare la speranza a quest'altezza in questo cielo tu sai cioè tu sai far suonare la speranza tu che tante fiate cioè tante volte la figuri cioè rappresenti la speranza quante volte Gesù fece più carezza ai tre allora qui Beatrice si sta riferendo agli episodi del Vangelo in cui Pietro, Giovanni e Jacopo erano stati prediletti da Gesù Cristo che sono se ricordate la resurrezione della figlia di Gairo poi la trasfigurazione nel monte Tavor e la preghiera di Getsemani in quei tre momenti Gesù volle accanto a sé Pietro che è già in questo gruppetto perché è quello che ha interrogato Dante sulla fede Jacopo che è quello che si è appena allontanato dal giro dove stava danzando per avvicinarsi a Dante, Beatrice e Pietro e Giovanni che più avanti vedremo anche lui uscire dalla sua ruota danzante per unirsi a questo gruppetto e in questi tre momenti secondo l'esegesi diciamo medievale questi tre personaggi altolocatissimi rappresentavano appunto le tre virtù teologali chiaramente Pietro la fede come abbiamo visto la settimana scorsa adesso Beatrice sta dicendo che Jacopo rappresenta la speranza quindi Giovanni come vedremo la carità e quindi sta dicendo fa sonare tu che rappresenti simbolicamente la speranza appunto la speranza in questa altezza e quindi senza un verbo che lo introduce Dante trascrive quello che pronuncia Jacopo immediatamente al verso 34 rivolgendosi al Dante personaggio che ha lo sguardo basso perché era stato appunto abbagliato dalla luce di Jacopo e di Pietro leva la testa e fa che t'assicuri che ciò che viene quassù del mortal mondo conviene che i nostri raggi si maturi cioè alza la testa e stai tranquillo perché tutto quello che viene quassù in cielo dal mondo mortale necessariamente matura per sostenere i raggi nostri quindi rassicura Dante che ora lui potrà guardando Jacopo e Pietro sostenere lo sguardo della loro luminosità allora chiusesi le virgolette del verso 36 al verso 37 l'antescrittore chiarisce questo conforto del fuoco secondo mi venne cioè questo invito rassicurante mi venne dal fuoco secondo il primo era vi ricordate Pietro per cui Dante era assicurato che ormai potrà vedere questa luce dice di alzare gli occhi ai monti come se Pietro e Jacopo fossero dei picchi di montagne gli occhi che gli avevano incurvati prima con la troppa carica di luce che emanava da loro quindi Dante ora si sta guardando direttamente Pietro e Jacopo e quindi continua Jacopo a domandare a Dante seguendo la indicazione di Beatrice al verso 40 poi che per grazia vuol che tutta affronti lo nostro imperatore anzi la morte nell'aula più secreta coi tuoi conti sicché veduto il verde questa corte la spene che laggiù ben innamora in te in altrui di ciò conforte di quel che l'è di come se ne infiora la mente tua e di onde a te venne allora Jacopo dice a Dante visto che per grazia il nostro imperatore vuole che tu ti confronti prima della morte nell'aula più secreta con i suoi conti quindi nel cielo più vicino a Dio con gli apostoli in modo che sicché una volta vista la verità di questa corte la speranza che laggiù nel mondo innamora bene conforti in te e in altri tutto questo è il vocativo scusate diciamo la subordinata visto che Dio vuole che tu prima della vita conforti la tua speranza vedendo l'oggetto della speranza qui in questa corte in modo che diciamo tu la conforti in te e tu poi scrivendone nel libro conforti di speranza anche i lettori in nome di questo di quella che l'è cioè dalla definizione di speranza di come se ne infiora la mente tua cioè come si abbellisce la tua mente con la speranza quindi in quale misura ce l'hai e di da dove ti viene tre cose domanda Jacopo ma intanto interessante che nella subordinata due cose importanti sono state dette intanto al verso 44 che la speranza innamora laggiù nel mondo bene cioè che dalla speranza dipende la carità l'amore di Dio il bene innamorare e la seconda cosa è che questi esami che Dante sta sostenendo le cui risposte chiaramente il paradiso conosce prima che lui parli hanno sì una funzione di glorificarle come si è detto nel canto scorso ma hanno anche quest'altra funzione che si dice qua in questo verso 45 cioè che suonando nel libro riforzino la speranza dei lettori e quindi sono parte della missione del Dante poeta vero? allora Dante deve rispondere a queste tre domande che cos'è la speranza se lui ce l'ha e da dove gli venne che sono domande analoghe a quelle che si sono fatte inizialmente nel canto scorso per quel che riguardava la fede vero? ma qui succede una cosa insolita ora vedremo al verso 48 così seguì il secondo lume ancora cioè Dante dice che queste parole furono dette da Jacopo ma Beatrice interviene prima che Dante risponda lei si anticipa per rispondere a una parte di questo quesito al verso 49 e quella pia che guidò le penne delle mie ali a così alto volo alla risposta così mi prevenne cioè quella donna pietosa che aveva guidato le penne delle mie ali le piume a un volo così alto si anticipò alla risposta così e al verso 52 Beatrice risponde alla seconda domanda che aveva fatto Jacopo e cioè in quale misura Dante ha la speranza nella sua mente anzi si infiora come se la speranza fosse un adorno di fiori nella mente e perché si anticipa ora vedremo al verso 52 parla Beatrice la chiesa militante alcun figliolo non ha con più speranza come è scritto nel sol che raggia tutto nostro stuolo però gli è conceduto che d'Egitto vegna in Jerusalemme per vedere anzi che il militare gli sia prescritto allora quello che dice qui Beatrice è molto significativo dice fra tutti i cristiani cioè quelli che sono vivi e che sono allora parte della chiesa militante non c'è alcun figliolo con più speranza di quanto non ne abbia Dante così come sa Dio cioè come è scritto nel sole che irraggia tutto il nostro stuolo cioè il nostro esercito trionfante ormai non più militante perché sono in paradiso cioè lei si è anticipata perché se Dante doveva rispondere la verità doveva vantarsi di essere il più speranzoso dei cristiani però al verso 55 perciò cioè proprio perché è il più speranzoso dei cristiani gli è stato concesso di venire dall'esilio del mondo figurato nell'Egitto dell'Antico Testamento alla vera patria celeste cioè a Gerusalemme per vedere l'oggetto della sua speranza prima che gli sia esonerato il suo militare quindi prima della morte ora è importantissimo questo passaggio no? perché da una parte tira le somme di una caratteristica del Dante personaggio che abbiamo effettivamente osservato lungo tutto il viaggio fin dall'episodio della selva oscura no? non so se vi ricordate che Dante dopo diciamo aver passato questa notte angosciosa piena di paura nella selva non appena esce e vede questo sole che sta ormai illuminando il monte alza lo sguardo è un primo suo gesto di speranza e si dispone a intraprenderne la salita se non che una fiera no? la lonza interrompe il passaggio ma Dante anche lì di fronte alla paura di questo animale riflette Dante che comunque è il mattino ed è primavera così che sia la dolce stagione che l'ora del giorno erano una buona causa per sperare per avere speranza nei confronti della fiera di nuovo Dante è tentato dalla speranza poi gli appare insomma il leone è immediatamente la lupa come sapete il più grave degli animali che gli impedisce il passaggio sì che Dante dice che perde la speranza dell'altezza quindi raggiunge una crisi personale talmente profonda che perde quello che ora conferma Beatrice nel paradiso lo ha sempre caratterizzato come il più speranzoso dei cristiani e non a caso proprio in quel momento in cui lui sta tornando nella valle dolorosa cioè nella selva gli è offerta l'ombra di Virgilio ora solo ora veniamo a sapere sebbene Dante l'abbia chiesto no ma io non sono né Nea né Paolo perché mi è dato questo e Virgilio gli aveva detto guarda in paradiso si vuole questo io ero nel limbo è venuta Beatrice mi ha mandato a salvarti ma non gli aveva dato nessuna caratteristica personale di Dante che lo rendesse meritevole di ricevere quest'aiuto della grazia ora lo sappiamo perché Dante ha speranza sempre nonostante tutto e quindi in un momento di fragilità di questa sua virtù gli viene dato l'aiuto divino e gli viene dato quest'aiuto come si dice qui attraverso questa figura di conoscere la vera patria dall'esilio dall'egitto vero non è casuale questa formula perché il canto ricorderete si è aperto con quest'anelito di Dante di finire questo suo esilio contingente nel mondo il che non gli sarà dato ma quest'altro esilio quello in cui siamo tutti nella vita secondo la concezione medievale questo sì non solo sarà dato a Dante di finirlo perché sa di essere destinato alla salvezza ma addirittura gli è dato di vedere l'oggetto di questa sua speranza prima di finire la militanza nel mondo allora Beatrice si è anticipata per evitare che Dante si vantasse della sua grande straordinaria speranza e al verso 58 aggiunge gli altri due punti cioè che cos'è la speranza e da dove viene essa a Dante che non per sapere sono dimandati ma perché i rapporti quanto questa virtù è in piacere che come al solito non si sono domandati questi punti perché voi o noi non lo sappiamo perché comunque vediamo questo in Dio ma finché lui poi nel libro racconti quanto ti è in piacere questa virtù cioè lo sta dicendo Beatrice a Jacopo a lui la scio cioè questi altri due punti le altre due domande io li lascio a Dante scusate che metto in silenzio cioè io li lascio a lui giacché non gli saranno difficili forti né di attanza né causa di vanto e che lui risponda a ciò e la grazia di Dio ciò gli comporti e la grazia di Dio gli consenta di rispondere bene dunque finite le parole di Beatrice a Dante sono rimasti due punti da rispondere vero che cos'è la speranza e da dove lui ce l'ha che ce l'ha in modo eccezionale l'ha già detto Beatrice quindi al verso 64 come discente che ha dottor seconda pronto e libente in quel che lì è esperto per la sua perché la sua bontà si disasconda spene di Sio è un attender certo della gloria futura il qual produce grazia divina e precedente merto allora Dante sta lì come uno studente che sta aspettando è pronto e libente desideroso di rispondere volentieri quello di cui è esperto quindi Dante è come uno studente che dice bene mi hanno fatto una domanda con la quale posso veramente fare bella figura questa è la mia virtù questa la conosco bene e sta aspettando affinché la sua bravura esca dal nascondiglio si disasconda risponde la speranza la speranza cioè spene è l'attendere certo della gloria futura ed è un attendere prodotto dalla grazia divina e da un merito precedente Dante qui sta rispondendo con una formula della catechesi scolastica che era nei manuali nel manuale di teologia le sentenze di Pietro Lombardo quindi si limita diciamo a mettere in fiorentino la nozione latina di Lombardo e ora il verso 70 risponde all'altra parte da dove gli è venuta questa speranza da molte stelle mi viene questa luce ma quella distillò nel mio corpria che fu sommo cantor del sommo duce allora da molte fonti mi viene la speranza cioè da molte stelle mi illumino mi viene questa luce ma quello che per prima la distillò la fece gocciolare nel mio cuore è importante quello del cuore vero perché la domanda era in che misura la tua mente si infiora e Dante in qualche modo fa questo slittamento dal razionale verso l'affettivo no cioè questo mi è gocciolato nel cuore per la prima volta da Davide cioè il sommo cantore di Dio del sommo duce Davide ritenuto l'autore dei salmi vero e ora appunto cita il salmo nono è sempre Dante che parla al verso settantatré sperino in te nella sua teodia dice color che sanno il nome tuo e chi non sa se lì alla fedemia allora Dante cita traducendo in italiano il salmo undici che è che sperino in te teodia sarebbe diciamo inno a Dio il salmo quelli che conoscono il tuo nome chiaramente evocativo è Dio il Signore e poi con una con un registro veramente colloquiale Dante pone questa domanda retorica e chi non lo sa il nome di Dio no se lui ha la mia fede cioè è come direi ho appena risposto sulla fede sono appena stato eh celebrato da Pietro sulla fede come posso non conoscere il nome di Dio e quindi devo avere per forza speranza se conosco il nome di Dio come dice il salmo davitico eh è interessante questo passaggio perché così come prima avevamo osservato che la speranza è quella che muove ad amare bene innamorarsi bene nel mondo qui qui si sta sottolineando la dipendenza della speranza dalla fede che è chiaramente eh la base delle virtù senza la fede chiaramente non c'è speranza e allora Dante ha detto mi viene dal salmo nono scritto da Davide e ora da un'altra fonte che non a caso è l'epistola eh di Jacopo e lui sta parlando ricordiamo con lui tu mi stillasti con lo stillar tuo nell'epistola poi sicch'io son pieno e in altrui vostra pioggia repluo cioè poi tu mi hai distillato la speranza con il tuo distillare nell'epistola perché l'epistola di Jacopo dice che eh coloro che eh aman coloro che sono amati dal signore riceveranno la corona del suo premio vero? ma quello che è più significativo è quello che Dante il Dante pellegrino del 1300 non lo scrittore che è già tornato dal viaggio dice di se stesso in modo che io sono colmo di speranza e faccio ripiovere la vostra pioggia negli altri cioè perché dico che è significativo? Perché noi avevamo conosciuto Dante in una situazione pessima vero? Nella selva in preda ai peccati in questa crisi senza un senso della propria vita ma qui in qualche modo lo stiamo conoscendo per quello che lui è al di là di questa circostanza nella quale l'abbiamo trovato no? Abbiamo appena saputo da Beatrice che Dante è quello che ha più speranza fra tutti i cristiani e ora veniamo a sapere dalla bocca di Dante stesso che lui il Dante del 1300 non l'autore della commedia che chiaramente sta lavorando ma noi stiamo leggendo il suo lavoro no? Ma il Dante Pellegrino non l'ha ancora scritta la commedia ma anche quello che si è perso nella selva perché sta facendo il viaggio nell'aldilà è solito trasmettere questa speranza che lo deborda agli altri quindi è uno che già in vita lavorava per la speranza del prossimo e ovviamente Jacopo è molto contento di questa risposta quindi finite le virgolette chiuse sia al verso 78 al verso 79 mentre io diceva dentro al vivo seno di quell'incendio tremolava un lampo subito e spesso a guisa di baleno cioè Dante dice mentre io rispondevo dentro quell'incendio che diciamo la luce nella quale Dante vede Jacopo tremolava un lampo come un raggio subito e spesso manifestando appunto la gioia che gli dava la risposta di Dante andiamo sì mi si domanda se questo secondo verso al quale ha un posto mano e cielo e terra vuol dire che il poema è ispirato da Dio sì effettivamente secondo diciamo la maggior parte degli studiosi vuol dire questo il che del resto sarebbe coerente diciamo con tutte le investiture profetiche che Dante ricevette lungo il viaggio vero? perché lui sta narrando di aver fatto un viaggio di cui all'inizio non capisce molto il senso tranne che lui è tenuto a farlo perché è in una situazione talmente grave che non è in condizioni di raggiungere il monte della felicità attraverso i mezzi naturali è la primissima cosa che gli dice Virgilio ma poi nel secondo canto dell'inferno non so se vi ricordate quando Dante ha questa prima sua crisi per cui non si sente all'altezza del viaggio propostogli da Virgilio nominando Enea e Paolo come i suoi diciamo predecessori tradizionali in qualche modo da per scontato anzi lo dice esplicitamente che visto che dalla diciamo dalla discesa di Enea nel Laverno sarebbe di pesa la sua conoscenza del proprio destino e quindi tutte le vicende che portarono alla fondazione di Roma sede del papato e dell'impero e che dalla diciamo ascensione di di Paolo al terzo cielo sarebbe di pesa la diffusione della buona nuova in qualche modo Dante sta il Dante diciamo pellegrino immaturo dell'inizio del viaggio sta dando per scontato che questa grazia particolare che lui sta ricevendo per cui sta andando nell'aldilà ancora vivo è perché ha una missione da fare perché Dio gli sta diciamo anche anche a lui sta dando qualcosa da fare e appunto lungo il viaggio viene a sapere che dovrà scrivere questo libro che noi stiamo leggendo quello che per cui diciamo se la materia del libro lui l'ha conosciuta per grazia straordinaria quello era già diciamo una dipendenza dalla volontà divina dell'esistenza del libro quello che qui esplicitamente si aggiunge è che la materialità proprio della scrittura è stata ausiliata da Dio cioè che durante questi anni in cui Dante è già tornato al mondo e sta scrivendo ha ricevuto la collaborazione divina per portare a termine la sua opera vero? e del resto certo ognuno avrà qui la sua fede però credo che man mano che uno legge diventa sempre più difficile pensare che un essere umano da solo l'abbia scritto vero? allora al verso 82 Dante ha appena risposto alle due domande che mancavano Jacopo ha espresso la sua gioia attraverso la maggior lucidità e al verso 82 indispirò cioè quindi Jacopo mise fuori queste parole l'amore on Dio avvampo ancora per la virtù che mi seguette in fin la palma e all'uscir del campo vuol ch'io respiri a te che ti dilette di lei ed è mia grato che tu diche quello che la speranza ti impromette allora qui Jacopo domanda così come Pietro aveva fatto prima per la fede domanda qual è l'oggetto di questa speranza che cosa gli promette però prima chiarisce che l'amore di carità cioè l'amore di Dio per cui lui ancora si accende verso la speranza cioè quella virtù dice Jacopo che mi seguì fino al martirio e all'uscita dal campo di battaglia quindi alla morte questo amore verso questa virtù vuole che io parli ancora con te che ti diletti di lei cioè che godi di questa speranza e mi è grato che tu dica che cosa ti promette la speranza quindi questo è interessante perché così come abbiamo osservato per la fede anche per la speranza possiamo tranquillamente dire che per i salvati non esiste più perché quello che è oggetto di fede di speranza ce l'hanno già come verità rivelata e come beatitudine vissuta ma è interessante che dentro l'amore di carità che è appunto la sola delle tre virtù che sussiste nel paradiso c'è anche l'amore che ogni anima ha verso quella virtù che l'ha portato a godere di quella beatitudine che nel caso di Jacopo che come abbiamo detto raffigurava già nel nuovo testamento la speranza e appunto la speranza cioè vediamo i salvati che provano un affetto verso una speranza di cui non hanno più bisogno ma che è ancora oggetto del loro amore perché grazie a quella speranza ora sono lì in paradiso vero? Allora Jacopo ha domandato che cosa promette a Dante la speranza e al verso 88 Dante risponde e io le nove e le scritture antiche cioè chiaramente antico e nuovo testamento pongono lo segno cioè pongono l'obiettivo quello cui appunto mira la speranza ed esso lo mi ha dita dell'anime che Dio sa fatti amiche e questo mi segnala l'obiettivo di quello che avranno le anime che sono diventate amiche di Dio quindi che muoiono nella grazia di Dio e ora passa a citare al verso 91 Isaia dice Isaia che ciascun vestita nella sua terra fia di doppia vesta e la sua terra è questa dolce vita allora Isaia dice che ogni anima nella sua terra sarà vestita di una doppia vesta veste no di un doppio vestito allora in Isaia si dice che gli ebrei nella terra promessa avranno il doppio di quello che avevano perso e questo era inteso questa doppia vesta il vestito doppio di cui si vestiranno era interpretato dai cristiani come la resurrezione dell'anima e del corpo e la terra promessa appunto come dice Dante la sua terra e questa dolce vita cioè questa perpetua patria dei cristiani e al verso 94 di nuovo diciamo si passa un'altra fonte e il tuo fratello assai vi è più digesta laddove tratta delle bianche stole questa rivelazione ci manifesta e tuo fratello Giovanni Giovanni l'autore dell'apocalisse molto più diffusa ci manifesta questa rivelazione laddove parla delle bianche stole anche questo come appunto la resurrezione del corpo a questo passaggio mi riferivo quando vi dicevo che all'inizio del canto quando Dante dice che questi anni di scrittura nell'esilio l'hanno reso magro e che gli hanno cambiato la voce e gli hanno tinto i capelli di bianco questa importanza del corpo della stanchezza di aver quasi portato a termine la scrittura del libro è probabilmente legata a questo importante sviluppo che ha il tema della resurrezione dei corpi abbiamo già visto che la salvezza è già stata detta come tornare dall'Egitto andare in Gerusalemme e quindi in termini appunto di risoluzione di un esilio ora vediamo che il corpo stanco magro invecchiato di Dante che chiaramente come sappiamo non troverà il riposo desiderato nella sua patria del mondo troverà nell'eterna dolcezza perpetua della patria eterna anche ringiovanitosi come sarà il corpo risorto vero e allora il verso 97 evidentemente è finito l'esame sulla speranza quindi è prima presso al fin d'este parole sperent in te di sopra noi su di a che rispose tutte le carole cioè prima che Dante finisse di dire queste parole qualcuno non sappiamo non si dice diciamo da chi ma qualcuno canta sopra Dante Beatrice Jacopo e Pietro sperent in te cioè appunto il salmo nono che Dante stesso aveva citato e tutte le anime danzanti che sono lì rispondono e cantano lo stesso quindi chiaramente stanno lodando diciamo l'esame sulla speranza visto che in più di un passaggio si è espressa la interdipendenza cioè la dipendenza della speranza dalla fede e della carità dalla speranza visto che Beatrice ha nominato i tre più cari a Gesù Cristo in questi episodi evangelici ci stiamo aspettando ovviamente che Giovanni interroghi Dante sulla carità anche perché ormai a questo punto della lettura sappiamo che il numero tre è quello che più torna ad ogni livello del libro e quindi possiamo intuire che al verso 100 ci si presenterà appunto il lume di Giovanni Vangelista poscia tra esse un lume si schiarì sì che se il cancro avesse un tal cristallo l'inverno avrebbe un mese di un sol dì allora dopo tra queste carole che ha nominato prima un lume cominciò a schiararsi cioè a diventare così lucido così tanto che se il segno zodiacale del cancro avesse una stella di quella potenza l'inverno l'inverno che nell'emisfero nord diciamo va dal 21 dicembre al 10 gennaio è un periodo in cui il sole è accompagnato dalla costellazione del capricorno che ha gli antipodi del cancro quello che sta dicendo è che se durante l'inverno il cancro che la costellazione opposta avesse una stella così lucente durante quel mese sarebbe solo giorno perché quando si pone il sole che è insieme al capricorno si accenderebbe cioè si vedrebbe nel mondo questa stella lucente quanto il sole quindi non ci sarebbe l'alternare di giorni e notti quindi questo nuovo personaggio si accende come un sole e poi al verso 103 e come sorge e come sorge e vai ed entri in ballo vergine lieta sol per fare onore alla novizia non per alcun fallo così vid'io lo schiarato splendore venire a due che si volgieno a nota qual conveniessi al loro ardente amore allora nello stesso modo in cui una vergine contenta lieta una ragazza giovane si alza perché era seduta e si avvicina ed entra in un ballo solo per onorare la la sposa non per nessuna iattanza diciamo di non per farsi vedere lei ma per onorare la la sposa nello stesso modo cioè con la stessa eleganza e modestia io vidi dice Dante che questo splendore così intenso cioè Giovanni si univa a quegli altri due Pietro e Jacopo e nel canto corrispondendo a loro amore ardente di carità appunto che è la virtù che ancora su cui ancora Dante non ha risposto allora si avvicina Jacopo a Pietro scusate Giovanni io vi ho anticipato che Giovanni perché penso che un qualsiasi lettore medievale ci arrivasse da solo ma ora vedremo che questo lo lo dirà Beatrice allora al verso centonove misesi lì nel canto e nella rotta cioè si unì a Pietro e Jacopo Giovanni nel canto e nella danza e la mia donna in l'ortene all'aspetto pur come sposa tacita e immota e Beatrice manteneva in loro lo sguardo come una sposa immobile e silente e allora Beatrice spiega Dante presenta Dante al verso centododici questi è colui che giacque sopra il petto del nostro pellicano e questi fue di sulla croce al grande ufficio eletto allora Beatrice presenta così come prima aveva detto che Jacopo era il barone per il quale si visita Compostela ora dice questo è quello che giacque sopra il petto di Gesù detto il nostro pellicano ora vi dico perché chiaramente un'allusione all'ultima cena secondo il racconto appunto del Vangelo di Giovanni dove Giovanni appoggiò sul petto di Gesù la testa vero? e immediatamente ricorda un altro episodio questo fu eletto dalla croce per il grande ufficio no? Giovanni come sapete fu quello indicato da Gesù morente come quello che doveva prendersi cura di Maria dopo la sua morte allora sono due scene quella dell'ultima cena e questa chiaramente che presentano l'amore filiale vero? cioè l'amore di Gesù verso i figli e anche di Gesù verso la madre e verso appunto questo prediletto Giovanni che avrebbe svolto questa funzione la figura del pellicano con cui qui viene nominato Gesù era tradizionale fin da un salmo ma era anche appoggiato dalla figura del pellicano nei bestiari medievali in cui si attribuiva a questo animale il fatto di farsi uscire del sangue dal petto per alimentare i figli per cui diventava appunto una figura idonea per rendere Cristo che salva con il proprio sangue vero? allora Dante ha immediatamente riconosciuto Giovanni e allora al verso 115 la donna mia così ne però più è mossa la vista sua di stare attenta poscia che prima le parole sue cioè così parlò Beatrice vero? ma non per quello la sua vista si mosse dallo stare attenta prima di dire queste parole quindi mentre parla Beatrice guarda ancora questi tre grandi interrogatori di Dante vero? e qui Dante fa una cosa strana che vi anticipo perché lo fa c'è una leggenda popolare secondo cui Giovanni era stato nella sua morte assunto in corpo e anima come Cristo e Maria sulla base di un passaggio del Vangelo di Giovanni che è alquanto strano veramente un momento in cui i discepoli capiscono che Cristo ha detto che Giovanni non sarebbe morto ma che poi si chiarisce Cristo non disse questo e comunque era nata questa leggenda di cui si erano occupati anche Sant'Agostino San Bonaventura Tommaso sulla possibile anche se diciamo non del tutto sicura ascensione in corpo e anima di Giovanni in paradiso cioè qui Dante come ora vedremo in qualche modo come personaggio sembra di star seguendo questa leggenda e si sforzerà di vedere il corpo di Giovanni come scrittore diciamo che si scrive in una polemica teologica che era ancora aperta al suo tempo e come è solito fare Dante dirà io che ci sono stato trasmetto come sono veramente le cose no allora al verso 118 Dante dice qual è colui che ad occhie si argomenta di vedere eclissarlo solo un poco che per vedere non vedente diventa tal mi feciva quell'ultimo foco cioè come colui che in un'eclisse parziale di sole sostiene lo sguardo del sole e si sforza di vederlo e per cercare di vedere diventa cieco non vedente diventa così così mi feci io davanti a quell'ultimo fuoco cioè Giovanni mentre che detto fu e mentre io lo facevo sentì che qualcuno diceva no chiaramente Dante non vede ma evidentemente è appunto Giovanni che lo dice al verso 122 perché t'abbagli per vedere cosa che qui non ha loco cioè perché ti stai abbagliando stai diventando cieco nella volontà di vedere qualcosa che qui non c'è che qui non ha luogo cioè si sta riferendo al proprio corpo vero in terra è terra il mio corpo e saragli tanto con gli altri che il numero nostro con l'eterno proposito suguagli cioè lui dice il mio corpo non è qua come dice la leggenda popolare il mio corpo è terra in terra e sarà lì con tutti gli altri corpi finché il nostro numero il numero di noi salvati sarà uguale a quello del proposito eterno di Dio questo è diciamo anche tradizionale proveniente dall'apocalisse il fatto che la fine dei tempi cioè il giudizio finale e quindi di nuovo appare la resurrezione dei corpi avverrà quando la quantità di salvati riempirà il piano eterno di Dio quindi Giovanni sta dicendo non ti sforzare nel fissare la mia luce perché il mio corpo è nella terra come tutti gli altri fino al giorno del giudizio e della resurrezione dei corpi e poi aggiunge al verso 127 con le due stole nel beato chiostro sono le due luci sole che saliro e questo apporterai nel mondo vostro cioè con le due stole cioè corpo e anima nel chiostro santo nel paradiso sono soltanto le due luci che salirono verso all'empireo cioè Cristo e Maria e questo devi riportare nel mondo cioè questo riferisci ai tuoi lettori affinché questa leggenda finisca e sappiano com'è la verità del paradiso allora finite queste parole al verso 130 a questa voce l'infiammato giro si quietò con esso il dolce mischio che si facea nel suon del trino spiro siccome per cessare fatica o rischio li remi prima nell'acqua ripercossi tutti si posano al sonardo un fischio bellissima similitudine della navigazione Dante dice che quando finì di parlare Giovanni il giro infiammato di loro che danzavano si acquietò nello stesso momento in cui smisero anche di cantare tutto insieme cioè movimento e suono così come i remi di quelli che stanno navigando per smettere fatica o rischio i remi che prima colpì si colpivano sull'acqua si posano tutti quando suona un fischio cioè è lo stesso momento in cui un suono fa sì che smettano di muoversi ma anche di suonare è bellissima l'immagine perché c'è il movimento ma c'è anche questo suono non so se qualcuno di voi ha mai remato ma è molto bello il suono dei remi sull'acqua vero? quindi l'idea è che si ferma un movimento un suono che sono comunque piacevoli e quindi Dante vedendo che è finita questa sua scena questo suo primo incontro con Giovanni che come possiamo intuire nel prossimo canto interrogerà Dante sulla carità la virtù che lui stesso raffigura ovviamente vedendo che non parla più non si muovono più queste anime rivolge lo sguardo come il suo solito a Beatrice ma che succede ora vediamo verso 136 hai quanto nella mente mi commossi quando io quando mi volsi per vedere Beatrice per non poter vedere bench'io fossi presso di lei e nel mondo felice cioè Dante esclama il Dante scrittore quanto mi commossi nella mente quando io mi girai per vedere Beatrice perché non la potei vedere perché era rimasto acceccato da questo suo tentativo di vedere il corpo di Giovanni quanto mi commossi nonostante io sapessi che ero vicina a lei e nel paradiso cioè Dante comunque si commuove perché starà poverino il nostro Dante umano destinato a tornare al mondo dubitando se questa cecità che lui stesso si è imposto per seguire una leggenda popolare sarà permanente va bene quindi si chiude il canto con questo suspense e la settimana prossima sapremo come va avanti questa capacità visiva del nostro amico è un canto bello questo vero? breve uno dei più brevi ma molto bello vediamo se c'è qualche domanda bene lo rileggiamo e poi ci salutiamo fino alla settimana prossima anche il canto ventiseiesimo è di una bellezza veramente incredibile tra l'altro vedremo Adamo è un incontro bellissimo con il primo uomo se mai continga che il poema sacro al quale apposto mano è cielo è terra si che ma fatto per molti anni macro vinca la crudeltà che formi serra del bello vileo vio dormì agnello nemico ai lupi che gli danno guerra con altra voce o mai con altro vello ritornerò poeta e in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello però che nella fede che fa conte larime a dio qui vintra io e poi Pietro parlei si mi girò la fronte indi si mosse un lume verso noi di quella spera onde uscì la primizia che lasciò Cristo divicare i suoi e la mia donna piena di letizia mi disse mira mira ecco il barone per cui laggiù si visita Galizia siccome quando il colombo si pone presso al compagno l'uno all'altro pande girando e mormorando l'affezione così vidio l'un dall'altro grande principe glorioso essere accolto laudando il cibo che lassù li prende ma poiché il gratularsi fu assolto tacito cuore a me ciascun s'affisse ignito sì che vince il mio volto ridendo allora Beatrice disse inclita vita per cui la larghezza della nostra basilica si iscrisse fa risonare la spena in questa altezza tu sai che tante fiate la figuri quante Jesù hai tre fe più carezza leva la testa e fa che t'assicuri che ciò che viene quassù del mortal mondo conviene che i nostri raggi si maturi questo conforto del foco secondo mi venne ond'io levai gli occhi ai monti che l'incurvaron pria col troppo punto poiché per grazia poiché tutto affronti lo nostro imperatore anzi la morte nell'aula più secreta coi suoi conti sicché veduto il verde questa corte la spene che laggiù bene innamora in te in altrui di ciò conforte di quel che l'è di come se ne infiora la mente tua e di onde a te venne così seguì il secondo lume ancora e quella pia che guidò le penne delle mie ali a così alto volo alla risposta così mi prevenne la chiesa militante alcun figliuolo non ha con più speranza come scritto nel sol che raggia tutto nostro stuolo però gli è conceduto che d'Egitto veni in Jerusalemme per vedere anzi che il militar gli sia prescritto gli altri due punti che non per sapere sono dimandati ma perché i rapporti quanto questa virtù è in piacere a lui lasciò che non gli saranno forti né di attanza e dellì a ciò risposta risponda e la grazia di Dio ciò li comporti come discente che adottor seconda pronto e libente in quel che li è esperto perché la sua bontà si disasconda spene di sio è uno attender certo della gloria futura il qual produce grazia divina è precedente merto da molte stelle mi viene questa luce ma quella distillò nel mio cor pria che fu sommo cantor del sommo duce sperino in te nella sua teodia dice color che sanno il nome tuo e chi non sa se li ha la fede mia tu mi stillasti con lo stillar tuo nella pistola poi sicch' io son pieno e in altrui vostra pioggia repluo mentre io diceva dentro al vivo seno di quello incendio tremolava un lampo subito e spesso a Luisa di baleno indisperò l'amore ondio avvampo ancor per la virtù che mi seguette in fin la palma e all'uscir del campo vuol ch'io respiri a te che ti dilette di lei ed è mia grato che tu diche quello che la speranza ti promette e io le nove e le scritture antiche pongono lo segno ed esso lo mi addita dell'anime che Dio sa fatte amiche dice Isaia che ciascuna vestita nella fia di doppia vesta e la sua terra è questa dolce vita e il tuo fratello assai vi è più digesta laddove tratta delle bianche stole questa rivelazione ci manifesta e prima presso al fin d'este parole speran ti in te di sopra noi sudi a che rispose a tutte le carole poscia tra esse un lume si schiarì sì che se il cancro avesse un tal cristallo l'inverno avrebbe un mese ed un sol dì e come sorgeva ed entra in ballo vergine lieta sol per fare onore alla novizia non per alcun fallo così vidìo lo schiarato splendore venire a due che si volgeano in nota qual conveni essi al loro ardente amore mise sì lì nel canto e nella rota e la mia donna in l'ordine all'aspetto pur come sposa tacita e immota questi è colui che giacque sopra il petto del nostro pellicano e questi fue di sulla croce al grande ufficio eletto la donna mia così ne però più e mossar la vista sua di stare attenta poscia che prima le parole sue qual ecco lui cadocchia s'argomenta di vedere eclissarlo solo un poco che per veder non vedente diventa tal mi feciva quell'ultimo foco mentre che detto fu perché tabagli per vedere cose che qui non ha loco in terra è terra il mio corpo e saragli tanto con gli altri che il numero nostro con l'eterno proposito s'agguagli con le due stole nel beato chiostro sono le due luci sole che saliro e questo apporterai nel mondo vostro a questa voce l'infiammato giro si quietò con esso il dolce mischio che si facea nel suon del trino spiro siccome per cessare fatica o rischio di remi pria nell'acqua ripercossi tutti si posano al suonare d'un fischio hai quanto nella mente mi commossi quando mi volsi per vedere Beatrice per non poter vedere bench io fossi presso di lei e nel mondo felice grazie arrivederci grazie